Benvenuti all'Arte del Risveglio. L'Arte del Risveglio è un programma che parlerà di arte da un punto di vista nuovo, diverso, non dal punto di vista del critico, non dal punto di vista dello storico dell'arte, ma dal punto di vista del pittore. Il pittore è colui che fa, che dipinge, che sarei io. Vi accompagnerò in questo percorso, in questo percorso emozionante, un viaggio bellissimo alla scoperta dei segreti, dei misteri racchiusi nell'arte. I grandi maestri hanno sempre racchiuso nei propri dipinti degli enigmi, dei codici che ancora oggi non sono stati decifrati a pieno, ma che gli storici dell'arte e i critici non ci raccontano. Se non ci credete, seguitemi in questo percorso insieme. Andiamo a vedere, vedete alle mie spalle, un dipinto, un brano della Cappella Sistina famosissimo, celebre e voi direte, ma che cosa c'è da dire ancora su quest'opera che già non sappiamo, che non abbiamo visto in tutti i documentari o nei libri? Andiamo a vedere, perché ci potrebbero essere delle sorprese. Allora, nel brano La creazione dell'uomo c'è questo signore volante, questo signore, quest'uomo barbuto che sarebbe Dio, che vola, vola sostenuto da questi angeli. Gli angeli di Michelangelo sono angeli nudi, i nudi venivano chiamati senza ali e sostengono questo uomo barbuto e lo portano avvolto da questo drappo, questo drappo rosseggiante che avvolge tutta la scena. Ricorda una figura che può ricordare le nuvole, può ricordare un'immagine onirica, un'immagine metafisica quasi, diremmo. E fino a qui tutto bene. E vediamo questa scena. A scuola quasi tutti i professori ci hanno raccontato dello spazio famoso del libero arbitrio, che se andiamo a vedere è quello spazio, quello degli indici, che è compreso fra gli indici, si vede nell'immagine, quindi quello spazio viene definito lo spazio del libero arbitrio, cioè quella distanza che ci permette di decidere in vita. Quindi cosa ha usato Michelangelo? Un grande stratagemma. Ci dice, siamo abituati fin da piccoli, che quando qualcuno indica con l'indice, andiamo a vedere il nostro sguardo segue la direzione dell'indice. Allora ci ha messo un po' fuori strada. Perché? Perché ci siamo soffermati su quelle mani che si guardano, si indicano e stiamo perdendo qualcosa di enorme, di grande, messo lì di fianco. Questa cosa enorme, meravigliosa, incredibile, andiamo a vedere qual è. Questa cosa meravigliosa, se ne è accorto di questa cosa, si è accorto un medico, un dottore americano nel 1975, proprio 500 anni dopo, 5 secoli dopo l'inaugurazione e l'esecuzione della Cappella Sistina, di questa volta. 500 anni dopo, alzando gli occhi al cielo, è rimasto sballordito perché ha riconosciuto una forma che conosceva bene, perché l'aveva studiata a scuola, all'università. Una forma anatomica. Qual è? Ha visto incredibilmente la forma di un cervello. La sezione esatta di un cervello. Una parte, una parte anatomica. Quindi, se noi ci mettessimo a guardare ogni dettaglio di questo dipinto, questo affresco, andiamo a vedere cose incredibili che poi si possono sapere solo se fossimo degli anatomisti, dei chirurghi o degli studiosi, dei disegnatori, degli artisti. Come Leonardo, Michelangelo, in questa maniera dichiara essere uno studioso del corpo umano e di aver eseguito delle dissezioni. Quindi delle dissezioni cadaveriche, degli studi su cadaveri che erano proibiti. Quindi non è stato dire, guardate, ho fatto un cervello e l'ho messo lì. Segreto, silenzio. L'ha messo davanti agli occhi di tutti e tutt'oggi i critici non lo vedranno. Ma Galileo Galilei diceva, occorre guardare con occhi che vogliono vedere. Occorre guardare con occhi che credono in quello che vedono. E Leonardo invece la diceva ancora diversamente. Ci sono tre tipi di persone. Quelli che vedono, quelli che vedono quando viene loro indicato, e quelli che non vedono. Ora sta a chi guarda cercare di capire se quello che dico è vero. Intanto, approfondendo il discorso, vediamo che c'è questo braccio, il braccio che sostiene che si, vedete c'è una figura che emerge dal braccio sinistro di Dio, questo corrisponde per esempio al giro cingolato. Il giro cingolato è una parte anatomica all'interno del cervello. Poi c'è un angelo sotto, quello che sostiene il Cristo, gli tiene la gamba e lo porta sotto. Si vede la schiena di questo angelo con le gambe che proseguono. Quello lì è il ponte di Varoglio. Sono tutti termini tecnici, anatomici. Ma se andiamo ancora più in profondità, ci sono le gambe che vanno a costituire il midollo spinale. Quindi un chirurgo che opera e che fa queste cose vedrebbe tutti i dettagli, il midollo e comunque esternamente si vede. C'è il lobo frontale, questo della fronte, parietale, tutta la calotta cranica in tutti i suoi elementi. Cioè è incredibile. Può essere un caso? Per voi è un caso che tutti questi elementi combaciano in maniera incredibile? E c'è un gioco che potremo fare insieme alla fine della puntata. Allora, il cervello vede quello che sa, cioè noi vediamo quello che sappiamo. Quando lo sappiamo, lo vedremo sempre. Dopo vediamo se funziona così veramente. Perché per 500 anni abbiamo guardato questa volta e non abbiamo visto quello che veramente avevamo davanti. Allora, intanto l'atto rivoluzionario, incredibile, geniale del grande maestro di Michelangelo è quello di averci messo davanti una cosa ma che cela un grandissimo significato. Se Dio non è più nell'alto dei cieli e anche dentro il cervello, il cervello ce l'abbiamo tutti. Poi usarlo e non usarlo sta nel libero arbitrio che ci dà il Signore. Poi, se Dio è dentro di noi e quindi in ognuno di noi, questa scintilla divina opera continuamente nell'essere umano, sta a noi usarlo. Usarlo attraverso l'arte è un mezzo nobile e evolutivo. Per questo lo chiamiamo, queste puntate le chiamiamo arte del risveglio perché in questa maniera l'essere umano studiando l'arte, facendo le arti, si risveglia perché vede cose nuove. Apre gli occhi, non apre il famoso terzo occhio, apre le finestre dell'anima, quelle che diceva Leonardo da Vinci, i nostri occhi sono le nostre finestre dell'anima. Allora, la cosa più incredibile è che questa lettura è a strati. Noi ci limitiamo a questa pillola. Guardiamo che il Signore ha il braccio destro che fuoriesce dal lobo frontale e questa è l'area dell'immaginazione. Se chiudiamo gli occhi ci si forma un'immagine tridimensionale, un ologramma, che è quella facoltà che l'essere umano può sfruttare, l'immaginazione. Imago è il termine antico con cui si chiamava l'immagine. Noi abbiamo questa facoltà mentale di immaginare le cose e di vederle. Quindi ha messo anche questo dettaglio incredibile e è una facoltà che noi abbiamo. Ora, facciamo un gioco. Chiudiamo, per esempio, potremmo togliere l'immagine o distogliere lo sguardo dal teleschermo e poi riguardiamo nuovamente questo drappo rosso con questo uomo dentro volante, tutti questi uomini e donne muscolosi. Cosa vedremo adesso? Adesso vedremo, molto probabilmente, se fate parte, se appartenete a quelli che vedono, la sezione esatta di un cervello. Ma la cosa più incredibile è un'altra. La scienza moderna, e c'è un premio Nobel che si chiama Roger Sperry, uno scienziato, ha fatto tutto uno studio su emisferi cervello destro e cervello sinistro. Noi sappiamo che il nostro cervello è diviso in due emisferi. Allora, c'è quello razionale, critico, quello che usiamo quasi sempre noi occidentali, e quello invece artistico che si chiama creativo, muto, è quello dell'immagine, è un cervello eccezionale, è quello degli artisti, dei musicisti, dei comici, dei pittori, chi balla, chi agisce o chi fa le cose con amore usa quello, ispirato. Allora, guardate bene di quale emisfero si tratta. È proprio l'emisfero destro. È l'emisfero, se ci mettiamo di profilo, è la parte destra, è l'emisfero destro. È un altro caso? Questo è un enigma, è un enigma direi quantistico, perché la lettura di questo dipinto è a strati, è incredibile. E potremmo continuare, perché non finisce qui. Tutta la volta dal Cappella Sestina al Giudizio Universale, la Venere del Botticelli, la Primavera, Caravaggio, tutti i grandi artisti hanno racchiuso questi messaggi e li andremo a vedere insieme. Se seguite il programma e queste pillole, il risveglio è garantito. Alla prossima puntata. Arrivederci e spero che vi sia piaciuto. Buona giornata.